ovviamente su iWave c'è la possibilità di memorizzare dei job delle lavorazioni in realtà abbiamo due possibilità o gli easy job dei job veloci modificabili in qualsiasi momento direttamente dalla videata principale della saldatrice per salvare un easy job è molto semplice tengo premuto uno di questi cinque tasti fino a quando diventa verde mi esce la spunta adesso il job è memorizzato questi job sono easy job perché sono modificabili come vi dicevo prima quindi io l'ho salvato a 60 ampere ma se avessi bisogno di saldare a 80 non faccio altro che mettere la macchina a 80 ampere fare la mia saldatura quando ritorno a ripremere uno ritornerà a 60 ampere come l'avevo salvato in origine la seconda possibilità è il salvataggio di un job chiamiamolo fisso dove vado a selezionare il numero di job da salvare gli do il nome saldatura fine il mio job è già salvato c'è poi la possibilità di andare a modificare anche questi job fissi tramite il menu job ottimizzazione job vado a selezionare il mio job da modificare e qui ho tutti i miei parametri del job e sono tutti modificabili